salve a tutti ragazzi benvenuti nel mio canale sono malvo 12 dopo un lungo periodo ritorniamo qui sono su skill e vi farò vedere un paio di partite così tanto per ritornare in maniera soft era tanto tempo che stavo fermo ma ho avuto problemi personali e chiedo umilmente scusa e godetevi il video ok scusate per la brusca interruzione ma giocheremo in questa partita e vi farò vedere quanto pessimo giocatore sono aspetto il caricamento e ci vediamo in partita ok eccoci qui in partita stiamo vincendo io uso nella mia AK 103 e partiamo ok ne abbiamo visto subito uno bello cagliardo andiamo a prenderlo e voilà ok abbiamo ucciso uno occhio 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 qui sparano uh attenzione Abbiamo ucciso un altro Su ragazzi Eccoli Un altro ucciso Scusate per la mia connessione Un po' penosa Oh bene 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 E accidenti Proviamo a fare il giro Doppia Ah Col cecchino Che cattiveria Vabbè Sono tutti là ragazzi Occhio con la macchina lì Perché potrebbe essere Un po' Accidenti Tutti col cecchino Adesso Facciamo una forbizia O almeno ci proviamo Ah si è spostato Bene A sapersi Ok Accidenti Ucciso male Uh attenzione Bella qua E mi sono un po' Impapinato Comunque Dio Scusa ancora per la connessione Ok Ok Uh Quello risparava Ah è saltata in aria La macchina Finalmente Ancora pochi istanti Vediamo come siamo messi 8-3 Benissimo Allo Qui tutto bene Qui mica tanto Uh Un headshot Buono buono Stiamo per vincere Ragazzi Oh No Cosa è successo No Vabbè Scusate Però abbiamo vinto Ragazzi E andiamo Ci vediamo subito Nella seconda Eccoci qui Nella seconda Partita Stiamo Sono pronto Per cominciare Questa qua E' la partita Scusate Per la sedia Facciamo un team Deathmatch Siamo solo 0-0 Vedo E ci troviamo Subito in partita Bene Ecco qui La partita Cominciamo E via Allora Noi Siamo sempre Dietro Siamo Sempre nella stessa Mappa Di prima Io lo ammetto Non sono forte Però Cercherò Sempre a vedere Il mio meglio Allora Qua non c'è nessuno Ah No Vabbè Scusate La mia connessione Però sarà così Per tutto il video Connessione un po' De schifo Sì vabbè Ci perdiamo anche Qui ci sparano Niente da fare Non riesco a uccidere nessuno Scusate Ulla Mattò Aia Qualcuno Spara E Accendi Ah madonna Tutti i controlli Di me ce l'hanno Di me ce l'hanno Di zero Tre Vabbè Vediamo se riusciamo Oh Cazzo Ho capito Che tutti sono dentro Oh Accidenti 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 E L'amattò Tutti Le bombe incendiarie Uh Headshot No Però 3-4 Ragazzi Stiamo migliorando Allora I miei compagni Sono tutti di là Cosa succede Mi sono scappati Tutti Andiamo Seguiamo lui Dai dai Su Tutta calma Qui Proviamo a passare Da dietro Non c'è anche lui Allora Sono lì dentro Facciamo una stone Oh Ma sono là Su un scenario O fa una finta Di esserlo Oh Sì sì Sono là Sono là Dobbiamo girarli Vediamo come fare Oh Chi è che l'angelo Adorano In quella maniera Scusate ragazzi Ma non trovo Nessuno Questo qua Aveva praticamente Abbandonato La partita Noi trovo Headshot Ok Ok Uuuuuh E Nooo Vabbè Comunque 7.5 Attenzione Stiamo Ritornando su Ancora 5 minuti Ok Il mio amico Si è imbucato Lì Headshot Un fumogeno Un fumogeno a caso Tutti giù per di qua Scusate ragazzi Proprio Da incenuo Mi sono fatto uccidere male Comunque Torniamo Qui c'è un nostro collega Qui c'è un nostro collega Lì dentro ce ne sono altri Niente Se ne sono E io penso di aver capito dove sono Però vediamo se mi lasciano Allora Andar dentro Nooo 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 Vabbè 9.7 Siamo sempre positivi Oh Bella questa Bella Bella Mi piace Questa uccisione Uccidenti Perfetto Colpo al muro Ok Perfetto Ah Ci ha fregato Vabbè Comunque La stiamo Stravincendo Questa partita Oh Che fortuna Martire 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 Sarebbe quando Oh L'ho ucciso Ucciso male Ma la bomba Oh Cosa fai Scusate ragazzi Per la parolaccia Oh ma dai Non ci credo Abbiamo sparato Adosso 30.000 colpi Lui non è morto Proviamo a camperare Un pochino Sì dai Sì Sì però Non c'è Nessuno Ucciso malissimo Buono Buono Oh dai No Peccato Poteva essere buono 18.11 Ragazzi Cioè Ci stiamo facendo valere Accidenti Non l'avevo proprio visto Comunque Vittoria per noi 5.000 a 3.380 Ci concludiamo qua Ok Scusate per l'interruzione Bruschissima Fatta malissima Comunque Dal vostro Malbo 12 È tutto Un salutone E alla prossima Ciao ciao